benvenuto in questo virtual tour io sono angelo camilleri addis mister affitti brianza e ti porto in visita in un appartamento monolocale arredato a seregno ingresso su scale che conducono al primo piano open space completo di tutto l'arredamento zone ben ricreate tra cui divano letto o stazione e televisione zona pranzo scrivania e cucina completa di elettrodomestici l'appartamento è mansardato con trabbia vista indegno e dotato di una doppia esposizione con più finestre bagno e antibagno con lavandino il bagno è dotato di doccia e postazione lavatrice comoda cabina armadio con mobili e appendi abiti per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.soloaffitti.it per la cultura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibianza.com solo affitti affittare con sicurezza www.desioaffitto.it Grazie a tutti.